Cosa vuoi ricevere 5 secondi per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 E vai lasciando un bellissimo like In questo momento io vorrei ricevere anche tu durante i 6p E mi raccomando codice creatore e codice gamer 582 In questo momento io vorrei che mi supporto dentro a fare altri video del genere Quindi mi raccomando metti il mio codice creatore Se ti fa supportami E ora una volta che siamo qui dobbiamo andare a mettere il codice isola Che sarebbe esattamente 394933103573 Andiamo a premere il gioco, questa qua è la mappa La partenza deve essere pubblica ma privata perché sono in glitch Perfetto ora avviamo la partita Perfetto una volta che siamo qui dobbiamo andare alla nostra sinistra Quindi verso questa direzione andare qua vicino ai esplosivi E vicino a questo dobbiamo andare a fare un balletto Ci porterebbe esattamente in questo punto E ora ci vediamo fra 900 secondi Perfetto andiamo a mettere il codice che sarebbe P3 poi 8 e poi 7 Perfetto andiamo a premere qua il tasto Confirma Ora il tasto qua start fk xp E ora abbiamo fatto ciò Troveremo qui questo tasto Andiamo a premere qui tele Porti ci portere in questa stanza Andiamo a prendere il rampino Ok perfetto Adesso utilizzando il rampino andiamo verso questa direzione Andiamo qui sotto Continuiamo ad andare dritto E quando saliamo qua Qui troveremo il primo tasto che andiamo subito a premere Così ci comincerà a dare alcun xp Perfetto adesso utilizziamo il rampino per andare verso questa direzione Quindi una volta che saremo esattamente qua Dovremmo trovare qua il prossimo tasto Andiamo a premere ci continuano a dare altri xp Ora il prossimo tasto ragazzi si troverà verso questa direzione Quindi seguite questi passaggi Una volta che siamo qui Qui troveremo una volta Che andiamo ad aprire il prossimo tasto Si troverà esattamente in questo punto E ci continuano a dare altri xp Perfetto allora andiamo a prendere un altro rampino Perché tanto questi qua sono finiti E quindi andiamo verso questa direzione Questa porta Andiamo ad aprire E saliamo Esattamente in questo punto Andremo a trovare un altro tasto Ma andiamo a premere E ci continuano a dare altri xp Ora perfetto Andiamo verso questa direzione Scegliamo verso destra Andiamo esattamente qua Perché il prossimo tasto Si troverà esattamente Verso questa direzione Quindi una volta che siamo qui dentro Dobbiamo andare esattamente qua Il tasto si troverà verso questa direzione Ecco qua facciamo press button E ci darà altri xp Ok perfetto Adesso andiamo verso questa direzione Quindi una volta che siamo esattamente qua Andiamo verso qui E ora raga Qui dovremmo trovare un altro tasto Ecco qua Press button Andiamo a premere Ci porterà qui C'è un continuo Andere xp Noi c'è un prossimo video Mi raccomando Codici creatore Coding Gamer Cm82 Quindi c'è ragazzi Bye Bye